Sventata una clamorosa evasione di un detenuto dal carcere di Forni a Salerno ed è ferma la protesta del SAP e il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria per questo episodio. A Forni vi è stato un tentativo di evasione da parte di un detenuto comune in isolamento precauzionale, ha comunicato Tiziana Guacci, segretaria per la regione Campania del sindacato. L'uomo, dopo essere stato portato presso il cortile passeggio, è riuscito a scavalcare il muro di cinta approfittando che vi era una sola unità di Polizia Penitenziaria impegata alla sorveglianza del cortile passeggi, sezione isolamento e sezione protetti promiscui. Una unità femminile che era di servizio sentinella, la gente si è accorta di quanto stava accadendo, ha subito dato l'allarme, il personale di Polizia Penitenziaria è prontamente intervenuto bloccando il detenuto nei pressi del campo ospertivo. Guacci è quindi tornata a denunciare che l'attenzione a Forni continua anche per i molti detenuti che pur avendo palesi comportamenti di tipo psichiatrico non vengono dichiarati tali e pertanto continuano a essere ristretti. In sezioni comuni, mentre in articolazione salute mentale troviamo persone che vi sono detenute da più di due anni, questa la denuncia del sindacato anche dopo l'ultimo episodio di Cronaca.